La porta girevole della Casa Bianca, dalla quale entrano ed escono ministri, assistenti, segretari e come fosse un grande albergo di Donald Trump, passa adesso Rex Tillerson, il segretario di Stato, l'ex boss dei boss alla Exxon, che non è mai piaciuto a Trump e che infatti Trump ha cacciato via praticamente mentre stava in viaggio diplomatico in Africa. Rex Tillerson era una colomba, uno che era favorevole ai commerci internazionali il più aperti possibile perché naturalmente come presidente della più grande compagnia petrolifera del mondo lui era per la massima circolazione del greggio e dei soldi, era anche amico dei russi, aveva ricevuto premi da Putin, gli aveva stretto la mano, era stato con lui, ma litigava con Trump perché era troppo aperturista, troppo possibilista, era stato il primo a parlare di possibili incontri con Kim Jong-un in Corea. Adesso con un tweet, il classico calcio nel sedere inferto dal presidente, Rex Tillerson è fuori. Al suo posto andrà, se avrà l'approvazione congressuale ma è scontata, Mike Pompeo, attuale direttore della CIA, Pompeo è un ex congressman, un ex deputato del Kansas più conservatore, più retrivo, quel Kansas nel quale addirittura si voleva obbligare i bambini a credere che la storia dell'umanità e della vita sulla Terra sia scritta nella Bibbia e non dalla scienza. E sarà lui quindi il Falco, nuovo segretario di Stato. E peggio ancora, al suo posto, alla CIA, andrà Gina Haspel. Gina Haspel è una vecchia conoscenza della CIA, è un agente dal 1985, era stata responsabile della cosiddetta prigione nera, l'operazione nera in Thailandia dove venivano mandati dei sospetti terroristi per essere, questa è una definizione ufficiale, torturati. Lei in particolare torturò un sospetto jihadista al Zubadaya che perse un occhio, che venne per 83 volte sottoposto alla tortura dell'acqua, al waterboarding e che alla fine, dopo tutto questo calvario, risultò non sapere niente. Quindi l'amministrazione Trump caccia Rex Tillerson dopo poco più di un anno e sterza durissimamente verso la destra più destra e più violenta che si possa trovare oggi nella CIA.